In occasione dell'Open Day Culture organizzato a Casa Ierace dall'amministrazione comunale di Ponistena è stato presentato il libro di Mariano Mazzullo, l'eterno sognatore, vite e opere di Domenico Mazzullo, artista poliedrico e antifascista, allievo prediletto di Vincenzo Ierace. Questo libro è un'opera innanzitutto storiografica perché ci racconta la biografia di un artista oppidese, di Oppio Mamertina, vissuto nella prima metà del Novecento, uno scultore, un pittore e un poeta, Domenico Mazzullo, che è anche mio nonno, che ha operato in tutta Italia nella prima metà del Novecento e poi anche nella parte della seconda perché morì nel 1981. Questa è la prima biografia su Domenico Mazzullo che colma un vuoto incredibile nella storia dell'arte perché è ricca, ricchissima di materiale inedito, d'archivio, quindi un epistolario con i fratelli Ierace ma con anche i sottosegretari dell'epoca, varie personalità del mondo, proprio della cultura, vescovi e altre personalità. Ma soprattutto raccoglie una corposa, una copiosa lista di lavori eseguiti dal 1924 in poi che ci ha consentito di rintracciare, di andare sulle tracce di queste opere disseminate dappertutto e di raccoglierne circa un 290 che vengono presentate, esposte proprio in questo libro che ha una parte biografica e una parte invece di catalogo. Pertanto è anche uno strumento fondamentale per tutti i futuri studiosi di storia dell'arte che vorranno mettersi sulle tracce di Domenico Mazzullo e rintracciare opere tuttora di ignota collocazione. Quindi non solo storiografia ma soprattutto è anche collezione d'arte, è anche recupero della storia e della memoria del nostro territorio.